ciao a tutti dreamlake murvi dal benvenuto al nuovo episodio della nozzobarry challenge siamo al lavoro con viola siamo tornati in ospedale e oggi anche il giorno di natale infatti terminato il nostro turno correremo a casa di mamma e papà a oasis springs a festeggiare urca questa bambina è arrabbiatissima oggi è natale e sono stata ricoverata eh sì hai ragione anche tu lei deve salutare tre pazienti per cui andiamo a salutarli è aumentata la fiducia allora uno ma quanti bambini oggi ricoverati mamma mia perché questa cosa amichevole fai la presentazione allegra dai che stanno male questi bimbi e cerchiamo di rallegrarli un attimo ma cosa è successo tu cosa sai tu hai punti bene anche lui hai punti però lei non sembra star male vista così vabbè è solo un po' incavolata o chiacchieriamo con un paziente magari non andiamo dalla bambina arrabbiatissima aspettiamo che si calmi un attimo chiacchieriamo con lei per cui amichevole chiacchiere e chiedi sei stato buono o cattivo ma tu quest'anno sei stata buona o cattiva ma mi sa che sono stata cattiva perché sto male ma questa è la mia punizione per essere qua natale no patata no allora preleva un campione da un paziente dato che siamo qua facciamolo con lei preleva un campione tra l'altro ho caricato l'ospedale come mi avete chiesto in galleria per cui se volete è andata nella mia galleria e lo trovate da scaricare e piazzare al posto del vostro ospedale per farlo facciamo una piccola parentesi dovete entrare nel lotto dell'ospedale e abilitare la modalità costruisci per cui in contemporanea dovete schiacciare ctrl shift e cv si apre la barra delle cheat qua in cima e digitate bb punto il che vuol dire che è una cheat per la modalità compre costruisci enable free build cioè abilità la costruzione libera schiacciate invio e in questo modo vi si sblocca il pulsantino per andare in modalità costruisci e quindi piazzare l'ospedale ecco chiusa parentesi se non lo sapevate spero che questo trucco vi sia utile e quindi esamina le orecchie il turno finisce alle 16 in teoria dovremmo riuscire tranquillamente a fare la serata insomma festeggiando il natale ha preparato lei il pasto grandioso da portare porterà anche i regali ne comprerà anche per cui dopo dopo l'ospedale un salto a casa prendiamo le cose che ci servono e andiamo a osi springs esegui la scansione del corpo poi come dicevo anche negli episodi scorsi non faremo tutti i turni di viola con lei magari li farò io tanti off camera altrimenti è facile anche annoiarsi per cui sì non la seguiremo sempre insieme ci vado solo io e poi magari ogni tanto torniamo insieme a lei giusto per far vedere la sua scarata verso livelli superiori no dobbiamo trasferire il caso ecco qua allora prima di trasferire il caso andiamo a calibrare la ad analizzare il campione anzi per cui analizza il campione e poi a calibrare la macchina a raggi x comunque adesso che ho messo più macchine più computer non dovremmo avere zia larissa ho saputo delle tue amicizie con masami yamamoto piuttosto in gamba sì non so chi sia e nanami è incinta è in attesa complimenti bene la faremo partorire noi chissà stavo dicendo qualcosa ah sì adesso che ho inserito più computer è difficile che vi ritroviate con un computer cioè senza computer liberi da poter utilizzare per cui molto meglio ora penso spero questo ospedale c'è anche la doccia insomma ho cercato di fare in modo che sia un po' più a parte pieno anche un po' più giocabile facilmente perché prima era proprio triste triste adesso almeno ha qualche decorazione in più ecco analisi completa è rimasta confusa dei risultati discutibili calibra la macchina a raggi x e poi trasferiamo il caso del paziente ma tu nanami esattamente che cosa c'è adesso oh mamma mia tutto oggi festival della gioventù che non sarebbe male a natale comunque farlo poi c'è il mercato delle spezie mi pare no il mercato delle pulci che è nato di brutto ah è medico lei proprio ok però siamo solo in due in questo posto cioè io e lei non abbiamo colleghi a parte lei che però è un assistente non è un medico stella reception si facciamo una foto di lei che calibra la macchina a raggi x trasferisci il caso del paziente per cui andiamo da lei e trasferisci quindi ha calibrato correttamente la macchina a raggi x affinché esegua scansione con più efficienza non so se non ci ho fatto caso più che altro non è che non lo so non ci ho fatto caso se aumenta il livello di logica ma mi pare di no ah anche lei cioè che però è alla reception vabbè la diamo a nanami no non è la receptionist e dove è lei me la sono persa cioè c'è ah è rimasta qua in palata tipo ah è infermiera vabbè la diamo a lei che è medico anche se allora preleva un campione che è successo qua mamma mia consegna il cibo a lei lo consegniamo anzi prima preleviamo un campione fai ah adoro foto perché si e consegniamo il cibo mentre andiamo ad analizzare il campione per cui prego ecco il pranzo e pranzo di natale povera e analizza il campione dopo torneremo a misurare la temperatura lascia stare il telefono che abbiamo del lavoro da compiere nanami tu ci stai capendo qualcosa di quella paziente no perché io non ho non ho assolutamente capito lei tra l'altro è assistente medico al momento per cui sì assistente lei è medico medico non so perché ho messo qua questi però vabbè sono carini ci stanno adoro questa cosa cioè fa un po' senso perché è inquietante però vabbè ci sei riuscita a note i risultati dell'analisi sì perfetto per cui vieni qua e a note i risultati perfetto lo studio del campione di tessuto di Orion Michelson nell'analizzatore chimico è riuscito l'esita l'esito indica chiaramente la presenza di una malattia infettiva che Viola deve diagnosticare e curare uuu malattia infettiva ovviamente lei cerca ogni volta su google perché si è normale cercare le malattie su google soprattutto se si è medici dai Viola per favore fa una ricerca online sui rapporti sanitari va bene allora fa una ricerca dato che ci sei dato che sei computer io bevo un goccio di caffè nel frattempo perché si voi vedrete questo episodio nel tardo pomeriggio almeno se lo vedete quando oh Giselle se lo vedete quando lo carico se no magari lo vedrete anche voi il mattino però sto registrando di mattina domanda veloce io e Calama Turei stavamo pensando di passare un po' di tempo insieme in amicizia devo farlo? solo in amicizia però eh mi raccomando perché tu Giselle cioè ci abbiamo veramente impiegato un sacco con te a farti dare un bacio uno ad Adam e cioè solo in amicizia va bene provaci ma solo in amicizia mi raccomando per cui misuriamo la temperatura della bambina no non si può più fare va bene e ah dobbiamo prendere un altro paziente andiamo dal bambino esamina il paziente per cui la temperatura poi preleviamo un campione e e lui almeno ride ha le risatine meno male affetto da risatine l'ha presa bene lui l'unico che l'ha presa bene ops niente lo buttiamo via quello hop e esamina gli occhi cioè avremmo già finito anche il nostro turno di lavoro in realtà abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare vabbè e analizza il campione insomma le solite cose per cui è un andare in qua e in là dalle camere al posto dove si fanno le analisi non sarebbe male adesso che stavo guardando spostare qua raggi x e analisi uno dei due insomma e spostare qua le sale operatorie perché no così anche le sim che devono partorire non devono farsi tutto il corridoio ma sono già qua è qualcosa che potrei pensare di fare vediamo se ha voglia se ha tempo poi eventualmente caricherò anche quella versione dell'ospedale insomma chi vuole percorrerà il corridoio della gravidanza del travaglio perché è un classico invece chi vuole avrà l'ospedale con qua il sale operatorio non sarebbe male magari una qui e una qui e in mezzo o i raggi x o questa stanza qua vabbè adesso vediamo analisi completa ma risultato inconcludente per cui vabbè esercitati nell'analisi biochimica così aumentiamo un po' il cosa c'è prurigine perfetto anche tu ti sei ammalata ottimo magari andiamo a berci un succo eh sì dai andiamo a berci un succo fa niente per la logica faremo un'altra volta per cui vediamo se compro uno spuntino no non compro uno spuntino non volevo questo dire il vero forse dovevo mettere un frigo non cucina insieme a dovevo mettere un frigorifero vero funzionerà? sì allora fai un pasto veloce e ci prendiamo non lo trovo mai il succo di frutta o meglio il succo d'arancia non lo trovo più o non lo vedo io ma è da un bel po' di tempo che non lo vedo disponibile allora niente ci compriamo una medicina e amen però magari è anche meglio andare a prenderci davvero uno spuntino se no arriviamo a cena che non ci vediamo più dalla fame per cui comunque fai un pasto veloce e ci prendiamo del latte dei cracker al formaggio dai come spuntino ci sta altrimenti arrivare stasera al pasto grandioso diventa difficile potevamo anche prenderci qualcosa qua però dopo l'ultima volta sono rimasta mareggiata perché ci ha rubato i soldi vabbè pochissimo però potevamo rimanere uccisi adesso noto che qua è vuoto ecco così uno può fare direttamente l'esame alla vista anche stando seduto su questa poltrona e se nota che ha problemi va subito a dirlo a qualcuno bene il giorno lavorativo termina fra un'ora e quindi sì io direi che davvero a questo punto ci compriamo una medicina dato che siamo qua qui siamo anche regali per i nostri parenti per cui non so cosa regalare in realtà però potrebbe essere carino regalare un libro a mamma e un libro a papà beh prima di tutto dato che siamo qua medicina e pallone da calcio no anche no perfide selvaggio del cuore che ne avrà tipo 500 copie in casa perla lo stereo no grazie e sì non è che ci sia molto sono sempre i soliti libri dai facciamo così perché non saprei cos'altro regalare a parte che porteremo lì i regali in realtà il cumulo di regali per cui prenditi la tua medicina eh lo so lo so d'altronde sei stata a contatto con pazienti con malattie infettive tutto il giorno per cui anche è normale riusciremo oggi a prendere una promozione chi lo sa a vescica stai bene a divertimento un po' meno per cui magari ti rialessi un po' guardando la tv al momento per cui potremmo guardare il canale culinario dato che almeno ti è utile per migliorare la cucina ah ti sedi lì va bene carina adesso questa sala relax sì anche questo momento da immortalare potevo spostarla un po' più in giù eh la tv però sai se passa qualcuno almeno chi è seduto a guardare riesce comunque a vedere ah sì il pollo si fa così allora vediamo la signora frigge il pollo poi fa la salsa con del pepe e del sale e viene fuori questo qua sì vabbè ok perfetto vediamo ah mi sa che questo è non mi viene in mente master chef oggi viola ha svolto un lavoro fantastico nel suo futuro ci saranno sicuramente promozioni e la salute della comunità ok abbiamo guadagnato 364 simoleon torniamo a casa prendiamo quello che ci serve per la serata e andiamo a oasis springs eccoci a oasis springs perla è diventata anziana oh mio dio si è diventata anziana nella notte si giù dal marciapiede lei perfetto mami che bello essere a casa per natale sono veramente contenta e anche perla è contenta adesso è più grigia di una volta praticamente qua ci sono le piante da sistemare mamma è andato malissimo questo è stirpa le erbacce stai mandando la casa a rotoli da quando me ne sono andata eh tesoro mi sto godendo la terza età potessi andare su una galassia diversa il viaggio me lo farei volentieri eh tesoro sì comunque ho invitato anche raffaele e sunshine perché sì mi sembrava giusto mettiamo il nostro fratello nel gruppo e anche Nathan azioni aggiunge il gruppo e quando hai finito tesoro andiamo dentro vai qui insieme no 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 non insieme vai semplicemente qui e raggiungi la tua famiglia perché sì è il momento di aprire i doni e piazziamo il cumulo di doni dov'è dov'è il cumulo di doni ma come non c'è l'ho messo nell'inventario giuro giuro che l'ho fatto vabbè la cena a base di prosciutto c'è il cumulo di doni no ah ah sì eccolo qua posso spostarlo io in casa da qualche parte sì ma dove qua mamma mia perché deve essere così difficile oh ce l'abbiamo fatta perfetto ovviamente non poteva che portare doni in viola per cui chiudi un attimo abbraccia anche papà e poi diamo i regali affetto abbraccia affettosamente anche suo fratello abbracceremo cioè lei abbraccerà suo fratello smettetela no smettetela di prendere cose che non si mangiano a natale dai perché ho portato la cena a base di prosciutto cioè meglio di così non si può come potete vedere ho colorato la casa in maniera un po' diversa perché adesso sì non siamo più nella generazione viola questa casa conterrà altre generazioni di sim perché noi continueremo chiaramente con viola la nostra challenge quindi la casa dei genitori non deve più essere per forza viola o comunque della generazione attuale insomma non è più la casa corrente con cui stiamo giocando va bene era quello che stavo cercando di dire per cui canta insieme e Fwinglo Fwinglo Zips con Prune e anche Raphael e Sunshine ma a proposito Prune e Sunshine dovete dirci qualcosa perché era chiaro che stavate per mettervi insieme spegni sta cosa che mi dà il mal di testa ah tu stai già aprendo i regali perfetto ah no l'ha preso di soppiatto che criminale davvero Nathan eh allora niente apridoni con Prune ah adesso stanno cantando va bene perfetto un foto di famiglia che che sono carini dai però basta quanto dura sta canzone cioè basta una volta ripetuta dovete ripeterla 20 volte basta a posto dai vai ad aprire i doni con Prune con tuo fratello vediamo cosa ricevi cosa riceve Prune anzi ma che schifo questo regalo dai ti ho preso un libro vediamo cosa riceve Viola invece Prune è veramente inconsolabile deve aver trovato davvero una cosa orribile dentro desideravo proprio questo o no oh caspita un tappetino da gioco wow che regalone e anche io ho dei regali per voi per cui amichevole dove saranno i regali adesso su hobby su affetto chiaramente dai regalo di festa d'inverno anche il progetto scolastico abbiamo in realtà va bene no preso dei libri a dire il vero perfide selvaggio del cuore a lui non ce lo vedo ci vedo abbiamo le uova da cova però le teniamo si sa mai che generazioni successive possano usarle un poof abbiamo che era stato fatto da nonno bisnonno bis vabbè qualcosa del genere alle a tu per tu con i piano bar ecco si mentre a lui allegro con pernambuco quello che è affetto del regalo di festa dell'inverno e gli diamo allegro con pernambuco che non so cosa significhi sinceramente se voi lo sapete fatemi sapere nei commenti perché ammetto la mia ignoranza e a mamma un bel romanzo rosa lui è già la torta vabbè come come ti pare raffaelle avete freddo e beh si certo imposta il termostato più caldo anzi spegniamo e basta facciamo che è spento e stop grazie mille sorellina ok adesso dobbiamo solo fare il pasto grandioso e aspettare babbo inverno lei però non ha per niente fame al momento diamo un regalo a mamma mamma questo è per te fatto con tanto amore comprato mentre ero in ospedale perché si all'ospedale ci sarà un punto dove acquistare i libri oh che carini e niente raffaelle ha deciso che se ne va io devo andare ho la cena in famiglia beh giustamente e anche sunshine va bene con i loro genitori invece noi restiamo qua in famiglia noi quattro come ai vecchi tempi ma quanto sono carini poi viale in questo vestito è strepitosa è davvero meravigliosa secondo me e allora vai a lavarti le mani e poi chiamiamo tutti quanti a tavola magari apparecchia ecco sia apparecchia con il coperto da festa facciamo o sofisticato facciamo i triangoli e vediamo com'è e a tavola ragazzi se no qua la cena base di prosciutto che ci ha messo un sacco a farla non è vero però ci si è messa d'impegno stamattina prima di andare all'ospedale si è proprio messa i fornelli e ha preparato la cena per stasera quanto è brava la nostra viola chiama al pasto grandioso oh che bella questa questa tavola tutta colorata a tavola non osate essere tristi vi prego perché c'è così poca luce qua dentro accendi no spegni non intendevo quello luci ah qua trasforma perché trasforma perché è così scuro in questa casa mamma mia non lo capirò mai oh che bella famiglia continua ad adorarli si sono anche posizionati in modo che fare la foto non sia un problema vi adoro grazie peccato che sarà una foto scurissima davvero delizioso tesoro grazie racconta una storia buffa goditi la compagnia eh sì è giusto anche così dai consigli familiari apple avanti con gli anni patata dove sei è qua che dorme vabbè è felice anche apple oh adesso sì che c'è la luce per fare una foto ma e quindi tu per un casa ci dici di te sunshine vedremo presto dei bambini in questa casa beh io ci spero tanto a dire il vero per cui chiediamogli proprio di un altro sim cioè vediamo se possiamo chiacchiere chiedi di un altro sim beh pettegolezzi altri sim ecco chiedi di un altro sim marisol è rasata da quando ho avuto problemi a rimettere cc nel gioco cioè in realtà li ho rimesse senza problemi però il gioco non me li ha contati dopo un aggiornamento e quindi tutti quelli che avevano cc si sono cancellati e chiediamogli di dov'è sunshine eccola qua ma è quindi sì che ci dici di sunshine tesoro diventerò presto nonna è arrivato babbo inverno ma salve beh in realtà volevo darle l'anello durante una cena ma lei mi ha mi ha anticipato sono talmente innamorato di lei oh bene babbo inverno presentazione garbata facciamo ciao babbo inverno l'ha salutato come un vecchio amico alessio greco va bene non è più clemente geno da un bel po' di tempo salve ha un regalo per me per caso non mi ha conteggiato il passo grandioso ah perché devo ancora finirlo dire il vero risata viscerale ah adesso me l'ha conteggiato benissimo e chiedi magari c'era già tra le opzioni chiedi un dono ma quindi ha un dono per me signor babbo inverno sono stata brava ho curato un sacco di persone in questi giorni beh no in realtà hai dato hai trasferito paziente a tutti i tuoi colleghi però si sei stata brava te lo merito un regalo cos'è oh fantastico è un bellissimo è un bellissimo macchina personale magia del tè uh molto bene evviva volevo proprio avere una macchina per il tè ce l'abbiamo già forse non lo so non ne ho idea comunque la serata la giornata è andata benissimo cioè io non immaginavo che potesse andare così bene davvero giuro per cui io direi che possiamo anche terminare qua in questo momento in famiglia il nostro episodio spero che vi sia piaciuto questo episodio dedicato a un po' al lavoro e un po' al Natale anche se vabbè in questo momento nel momento in cui sto registrando siamo in piena estate ma vabbè fa niente per cui se vi è piaciuto questo episodio vi invito a lasciare un bel like iscrivetevi al canale se siete nuovi attivate la campanella vi ricordo che in descrizione trovate i link a tutte le mie serie ai social ai canali dei miei amici youtuber che vi invito a seguire detto questo e vi ringrazio tantissimo per la vostra attenzione e noi ci vediamo alla prossima uh vibe antiche e vi auguro una stupenda stupenda giornata ciao a tutti ciao a tutti Grazie.